Buongiorno a tutti, sono Claudio Boellis, sommelier dell'Espresso iCaff. Siamo qui per parlarvi della miscela Premium Gran Milano di 101 Caffè. La miscela del Gran Milano è composta per l'80% arabica e per il 20% robusta. Sono caffè provenienti da piantagioni certificate Rainforest Alliance. Abbiamo appena estratto il nostro Premium Gran Milano da capsula compostabile. La crema che stiamo osservando è sicuramente un colore nocciola chiaro. È liscia, omogenea, non ha effetto spugnoso e non ha macrobolle. Avviciniamo la nostra tazzina al cuore per percepire l'intensità olfattiva e già da questa distanza riusciamo a sentire il profumo di caffè. Avvicinandolo ci accorgiamo che non sentiamo profumi di tostato ma bensì profumi floreali, vanigliati e fruttati. È un caffè deciso nel gusto, deciso nei profumi e soprattutto negli aromi. Non è un aspetto di forza la corposità ma bensì l'acidità e l'apertura nel gusto. A chi lo consigliamo il Premium Gran Milano? Sicuramente a quei clienti che possono essere un pochino più attenti all'aspetto ecologico, a quei clienti che apprezzano un caffè ricco di aroma, ricco di gusto e dà una buona acidità.